I carabinieri del comando provinciale di Vibo Valencia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, hanno arrestato una persona nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Carmelo Polito, ucciso a colpi di pistola San Gregorio di Pona davanti al figlio di 6 anni. Secondo l'accusa a sparare è stato Francesco Pannace, 32 anni, di San Gregorio di Pona, già detenuto perché coinvolto in un altro efferato omicidio, quello di Giuseppe Prostamo. Polito fu assassinato il primo marzo del 2011 in pieno centro abitato con cinque colpi di pistola calibro 7,65 davanti agli occhi del figlioletto miracolosamente scampato all'agguato. Il delitto fu immortalato dalle telecamere di video sorveglianze installate in una vicina officina meccanica. Polito, secondo gli inquirenti, fu ucciso perché ritenuto dal clan di Indrangheta a Fiarè, a cui il presunto killer sarebbe legato in quanto autista del boss Rosario Fiarè, una persona aggressiva e violenta. Sarebbe stato giustiziato in particolare per uno schiaffo dato due anni prima all'ozio del presunto killer e anche per dei buffetti sulla guancia, a mo' di richiamo dati a Rosario Fiorillo in carcere, come riferito agli inquirenti dal collaboratore di giustizia Raffaele Moscato. Polito era appena uscito dal carcere psichiatrico nel quale era stato detenuto. Il suo atteggiamento, spiegano gli inquirenti, avrebbe creato malcontento tra gli abitanti del paese che vivevano nel terrore. Pannace avrebbe confessato il delitto in alcune intercettazioni ambientali. Pannace avrebbe creato malcontento tra gli abitanti del paese che vivevano nel